e benvenuti in quattro chiacchiere questo podcast nel quale vi parlo della mia esperienza personale con determinati prodotti o vi dico la mia su determinati argomenti oggi voglio fare un po una fusione di queste due cose ovvero vorrei parlarvi di un argomento al quale tengo particolarmente attraverso l'esperienza che ho avuto con un prodotto parliamo infatti di ipad pro nel mio caso 12 pollici con processore m1 quindi diciamo il fascia alta di apple ora è uscito quello con m2 ma vi assicuro che anche quello con m1 sa ancora difendersi che ho carrozzato con la tastiera a folio quella pieghevole eccetera eccetera che costa quanto l'ipad e l'apple pencil insomma ho creato un mostro che fa scaturire in tutti ma veramente tutti la domanda ma alla fine questo ipad pro è meglio di un computer portatile può sostituire un computer portatile e la risposta è inequivocabilmente assolutamente no ipad pro non è meglio di un portatile ipad pro non sostituisce un portatile ipad pro è qualcosa di diverso rispetto a un computer portatile allora come alcuni di voi avranno sicuramente notato nell'ultimo periodo mi sono cimentato nella creazione di shorts ovvero quei video brevi di youtube nei quali faccio io personalmente degli unboxing veloci stando sotto ai 60 secondi insomma un format che recentemente sul web sta andando parecchio quello degli short content ovvero quei video da tiktok parliamoci chiaramente e per fare quei contenuti ho utilizzato sempre solo due dispositivi l'iphone per registrare e l'ipad per montare il video e poi caricarlo sul social li ho anche caricati su instagram essere onesto allora più utilizzavo questo questa metodologia di creazione di contenuti di nuova generazione più mi rendevo conto quanto la struttura tipica dell'ipad quindi delle applicazioni piuttosto che del software mi andava a creare un processo produttivo più snello più veloce più semplice da utilizzare rispetto a quello che avrei utilizzato che avrei dovuto utilizzare qualora avessi utilizzato ad esempio una fotocamera e un portatile questo perché perché le applicazioni sono studiate per essere utilizzate proprio nella creazione di questo genere di contenuti se con un software di un computer portatile ad esempio dobbiamo studiare a volte anche anni per poterlo padroneggiare al meglio e qualsiasi cosa verrà affidata alla nostra abilità e capacità di sfruttarne appieno le potenzialità del software con le applicazioni tutto questo viene meno riusciamo ad avere degli ottimi risultati con un minimo sforzo perché la maggior parte delle applicazioni studiano tramite intelligenze artificiali o algoritmi vari tutto quello che solitamente si fa con un software di editing veramente molto potente in poco tempo effetti vortex automatici anche dall'immagine fissa bocchè automatici insomma tutto quello che solitamente viene fatto con una certa difficoltà con un certo impegno sul software con l'applicazione si può avere un risultato molto simile un buon risultato senza aver bisogno di sprecare meglio di investire tutto quel tempo ma voi mi direte l'applicazione non ti permette di fare tantissime cose con un software è possibile fare e io allo stesso tempo vi rispondo è vero avete ragione però mi chiedo anche in quanti quando creano dei contenuti per i social in fin dei conti hanno la necessità e capacità di creare o comunque di sfruttare a pieno determinati software fatevi questa domanda io credo veramente molto molto poco di fatti è proprio questo il punto forte di ipad aver creato un mercato che non c'era prima non è quello dei computer portatile è quello di chi il computer portatile non sa forse neanche che cos'è ma comunque la necessità di andare a creare dei contenuti digitali che possono essere video foto disegni sviluppo software e che non avendo avuto mai un reale approccio con un computer attraverso un ipad riescono a farlo meglio e avere un ipad pro gli permette di farlo in un minor tempo avere un dispositivo più performante ok rispetto allo smartphone all'ipad normale tutto qua ma è questo l'utilizzo finale noi non dobbiamo dimenticarci che la maggior parte delle nuove generazioni sono nate con i tablet in mano non con i computer quando erano bambini ragazzini i contenuti baby shark glielo facevamo ascoltare su ipad non lo facevamo sul portatile o su un mac studio ok tutte queste tutto questo ha sviluppato nelle nuove generazioni un nuovo concetto di creazione digitale un concetto molto più sintetico un concetto che punta forse meno alla qualità totale ma che in fin dei conti va a finire in un marasma di roba che in fin dei conti di determinate qualità non se ne fa nulla parlo nel mio campo specifico proprio entro nei miei due campi più specifici che sono ancora più rispetto a quello dei video parlo di quello fotografico allora con l'ipad potete tranquillamente utilizzare camera raw eccetera eccetera e ci sono un sacco di software che vi gestiscono la post produzione fotografica in maniera un sacco di applicazioni perdonatemi che vi gestiscono la post produzione fotografica dei file raw in maniera quasi automatizzata e vi permettono di andare a modificare sfondi di andare a modifare andare ben oltre la color corrector ok e fa quasi tutta una sorta di intelligenza artificiale algoritmo che sia e il risultato finale non è male per nulla ok e vi assicuro che se poi quella immagine noi la andiamo a caricare su un social network non troverete alcuna differenza rispetto a una foto che è stata post processa attraverso un software di post produzione fotografica su pc certo è chiaro che se io devo andare a stampare un photobook cartellone o qualsiasi altra cosa di un certo tipo continuo a preferire l'utilizzo da pc che mi permette di fare delle regolazioni mi permette di mi soddisfa maggiormente ok a un sicuramente una vastità di regolazioni una potenza che l'applicazione non ha ma se io dovessi caricare semplicemente delle foto sui social perché devo sto creando degli scatti per un brand sto creando degli scatti per un influencer per me stesso eccetera eccetera tutta quella parte lì è totalmente superflua non serve perché tanto poi sul social abbiamo un quadrato con una risoluzione spesso superiore a quanto il social stesso poi va a offrire come output e quindi viene tutto vanificato perché poi l'immagine viene compressa i colori vengono visti su 10.000 dispositivi diversi quindi anche stare lì a perdere troppo tempo con determinate cose non è importante quello che è importante è che ci sia l'impatto visivo e l'impatto visivo con un'applicazione dove in pochi secondi puoi andare a cambiare lo sfondo andare a mettere risalto a determinate elementi della foto non si fa più velocemente che non con un software ed è per questo che vi dico che non è un sostituto cioè è proprio qualcosa di diverso è destinato a utilizzi diversi la maggior parte delle persone ormai non ha più bisogno di un computer senza tenere conto che la maggior parte delle persone probabilmente non ha mai utilizzato un computer di quelle generazioni che stanno nascendo ora la stessa cosa vale con i video con tiktok ad esempio che è credo sia il social network più utilizzato attualmente per quanto riguarda la parte video lì ancora non mi sono addentrato perché ho paura di contaminarmi ma il punto è che pensate alla creazione di quei contenuti che ci sono cioè voi prendete un video su youtube del 2013 un cortometraggio su youtube di 2013 quant'era complesso e prendete uno dei tiktok più visti che ci sono al mondo e guardate la diversità del contenuto quanto ora sia più non mi sembra brutto dire banale rispetto al passato ma è così quindi è molto importante che gli strumenti che vengono utilizzati per la creazione di questo genere di contenuti abbiano un'immediatezza come primo punto e le applicazioni ancora oggi creano danno un'immediatezza che il software non hanno e questo apple lo sa bene ed è per questo che non ha mai voluto inserire in ipad os un vero e proprio kernel perché non interessa non interessa avere un file manager che gli permette di andare a fare chissà che cosa perché il professionista vero quello che alla necessità ha determinate necessità utilizzare il computer ha già il suo prodotto ai macbook pro ai macbook ok chi invece vuole cimentarsi in queste cose senza avere grosse conoscenze lo può fare attraverso le applicazioni io penso all'altro mio ramo lo sviluppo ok se noi vogliamo sviluppare un'applicazione su ipad lo facciamo in una maniera tremendamente rapida ci sono praticamente dei tool delle applicazioni che vi permettono lo sviluppo di applicazioni con dei drag and drop cioè non dovete neanche più sapere il linguaggio di programmazione mi spiegate cosa se ne fa un ragazzo che entra attualmente in questo mercato ok di un portatile ok niente il portatile lo utilizzerà chi crea l'app che crea l'app quindi sono due strumenti totalmente diversi il pro che c'è davanti non deve farvi credere che questo sia destinato ai professionisti quelli che hanno gli studi eccetera eccetera se non per alcune cose di cui parleremo dopo ma nell'utilizzo quotidiano il pro sta nel senso proprio di produttività ok non di professionale almeno questa è la mia interpretazione quindi sono strumenti che chi ha bisogno soltanto di prendere appunti eccetera eccetera si prende il base di gamma arrivederci grazie ok layer e hai da vendere chi ha bisogno di disegnare chi ha bisogno di fare video per i social per campagne pubblicitarie social eccetera eccetera utilizzerà l'ipad pro perché perché è più potente tutto qua esattamente come nel mercato pc è un mercato parallelo come nel mercato pc c'è l'entry game l'entry level fascia media fascia alta e l'entusiast la stessa cosa nel mercato ipad proprio perché è un mercato che è nuovo vi ricordate la pubblicità di apple quando c'era il ragazzino che diceva che cos'è un che cos'è un computer è esattamente quello molte delle nuove generazioni tralasciando chi gioca tralasciando i videogiocatori che casomai conoscono il pc perché lo utilizzano per i giochi ma tralasciando quelli molti dei giovani non utilizzano il pc perché non sanno neanche non gli serve non sanno neanche che cos'è non gliene frega nulla ora loro con uno smartphone e con un ipad hanno tutto il mondo hanno tutto quello che hanno bisogno di fare e lo so ora voi mi direte ma così è facile così al mio tempo i tempi quando c'era lui e tutte ste cazzate qua io mi ricordo che quando iniziato io nell'informatica c'erano quelli prima prima della mia generazione cioè ma quando c'eravamo noi non era così facile è normale ragazzi è normalissimo più si va avanti più le cose devono essere facilmente utilizzabili si cerca un utilizzo più veloce che con minor conoscenza si riesca a ottenere lo stesso risultato è sempre stato così e sempre lo sarà non una volta programmare in basic era molto più complesso che non ora con con python per esempio per dire c'erano c'era linguaggi di programmazione che erano un casino incredibile ora è molto più semplice tutto molto più semplice fa parte sempre di quel processo che le aziende portano avanti perché perché più riesce a semplificare qualcosa più gente utilizzerà quella roba lì quindi loro più riescono a semplificare l'utilizzo di determinate cose più gente acquisterà quel prodotto ed è questo che fa ipad non c'è tanto da girarci attorno in realtà forse ho sprecato addirittura troppe parole per un concetto che dovrebbe essere scritto sulla pietra ok quindi ipad pro ad esempio anche per chi disegna è uno strumento che vi permette di avere qualcosa di molto più immediato e semplice che prima non avevate voi pensate io mi ricordo i grafici a fine anni 90 con le tavolette grafica senza neanche il monitor sopra le bestemmie che tiravano ora è molto più semplice con ipad lo fai in un modo diverso casomai non hai la stessa identica potenza che può avere il software di disegno ma alla fine ripeto per un utilizzo moderno attuale basta e avanza e questo è il punto è proprio questo che basta e avanza poi che ipad sia un'altra cosa a livello di potenza generale questo è fuori discussione cioè è veramente qualcosa di potentissimo e anche chi poi alla fine utilizza un portatile lo acquista perché determinate cose come dicevo sono più comode da fare così ma poi ad esempio avete un display xdr 120 hertz calibrato quindi ad esempio chi fa un montaggio video lo mette in come desktop perché si può usare come estensione del desktop di un mac soprattutto per fare i lavori di fino di correzione del colore eccetera eccetera è comunque uno strumento che nel 300 nei 360 gradi è molto più immediato molto più immediato ed è per questo che io rabbrividisco raggelo ok mi vengono iconati di vomito impazzisco quando sento persone dire non vedo l'ora che i macbook inseriscano il touch il giorno che il macbook inserirà il touch io probabilmente smetterò di utilizzarli perché quello vorrà dire che apple non ha capito un cazzo perché sta cercando poi veramente di unire le due cose il professionista che utilizza il macbook pro non ha bisogno del touch ha bisogno di un fate un mouse come si deve non ste cagate qua ha bisogno di quello ok ha bisogno di utilizzare degli strumenti che non sono il touch non è l'immediatezza che gli interessa perché lui sa già come gestirsi il suo software sa già come gestirsi il suo processo produttivo ha studiato anni per avere quello e per ottenere dei risultati che sono sicuramente superiori a quelli che si ottengono con un ipad ok ma se questo dovesse venire meno allora secondo me quello sarebbe un problema perché vuol dire che tutti gli strumenti a quel punto sono diventati solo ed esclusivamente per chi ha bisogno della semplicità di utilizzo e io questo proprio non lo vorrei per nessun motivo al mondo preferisco che continuano a viaggiare su binari paralleli ok questo è quello che mi aspetto anche il recente task manager nuovo inserito in ipad os vi fa capire come in fin dei conti non c'è quella volontà di creare il sistema a finestre tutta sta roba c'è sempre solo la volontà di creare qualcosa di semplice qualcosa che venga percepito in maniera immediata è semplicemente un modo per avere due cose insieme poter utilizzare due tre cose insieme e far lavorare più app contemporaneamente con dei drag and drop con quelle cose lì ma poco altro ok stato manager lì come cavolo si chiama non l'ho mai usato su pc come si chiama vada a vedere come si chiama stage manager quella roba là è aberrante su computer cioè se tu usi stage manager sul computer è perché sei caduto dalla culla da piccolo probabilmente probabilmente adesso mi sarà nemicato qualcuno però è così sono due cose diverse stage manager funziona perfettamente su ipad pro soprattutto con i monitor grandi è ottimo ma su pc no su pc è una cosa che non serve perché cosa hanno messo a fare non vi prego apple non farei non fate quell'errore non cercate di unire le due cose continuate a viaggiare su binari paralleli e questo quello che penso io di ipad pro e questo quello che io credo possa essere ipad rispetto a un pc non è meglio non è peggio è diverso e per chi ha bisogno partito siri qua e per chi ha bisogno di qualcosa di diverso rispetto a un computer qualcosa di più immediato qualcosa che non sia per forza complesso da usare perché non ne hanno bisogno e l'immediatezza e l'immediatezza è la può essere anche poi un modo per entrare in un mondo che piano piano evolverà probabilmente sì probabilmente un giorno evolverà perché queste persone avranno bisogno gli strumenti più potenti probabilmente sì quello è vero ma attualmente non è così e attualmente credo apple lo sappia e spero che continuerà a saperlo per il futuro perché è fondamentale che questi due binari continuino a viaggiare in maniera separata per quanto mi riguarda ragazzi questo era davvero tutto io spero che vi sia risultato interessante è un argomento abbastanza complesso probabilmente ci torneremo su per affrontare alcune altre faccinduole riguardante questa questa cosa ma per oggi direi che abbastanza come sempre in quattro chiacchiere fondamentale che voi mi facciate sapere la vostra ci sono i commenti sotto apposta guarda un po quindi ragazzi grazie per aver visto per aver ascoltato questo podcast noi ci vediamo con un prossimo video ciao cari